cosa dice l'articolo 5 della costituzione italiana l'articolo 5 della nostra carta costituzionale è entrata in vigore il primo gennaio 1948 afferma che la repubblica una è indivisibile ma nello stesso tempo promuove le autonomie locali l'articolo 5 è l'articolo dell'unità nazionale però nello stesso tempo non viene soffocata l'autonomia delle singole amministrazioni locali viene dato libertà allo stato e promuove la sua unità indivisibile ma riconosce allo stesso tempo le autonomie locali ciao al prossimo video vi aspetto